Bepi Colombo è una missione dell'ESA in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Giapponese, la JAXA, e prende il nome dal matematico-fisico-astronomo dell'Università di Padova, Giuseppe Colombo. La sonda è partita il 20 ottobre 2018 per un lungo viaggio verso Mercurio alla scoperta di un pianeta misterioso. La missione Bepi Colombo avrà infatti lo scopo di studiare la composizione, la geofisica, l'atmosfera, la magnetosfera, nonché la storia del pianeta più vicino al Sole, con un dettaglio senza precedenti. Bepi Colombo è composta da tre moduli. Il modulo di accompagnamento MTM, Mercury Transfer Module, e due sonde denominate Mercury Planetary Orbiter, MPO, che volerà in orbita più bassa attorno al pianeta, e Mercury Magnetospheric Orbiter, MMO, che sarà in orbita più alta per studiare i campi magnetici di Mercurio. Quest'oggi abbiamo qui con noi in Sala Europa Andrea Accomazzo, ingegnere e responsabile delle missioni interplanetarie all'ESA, che ci permetterà di capire meglio scopi e passaggi fondamentali della lunga missione nello spazio di Bepi Colombo. Benvenuto Andrea Accomazzo. Iniziamo con la prima domanda. Quando e perché nascono il progetto e la missione Bepi Colombo? Il progetto e la missione Bepi Colombo nascono all'incirca a metà degli anni 90, quando il programma scientifico dell'Agenzia Spaziale Europea si è trovato di fronte al dilemma di come continuare il programma che aveva iniziato negli anni 80, il programma Horizon 2000, che aveva portato missioni all'approvazione di missioni come Rosetta, Cluster, XMM, e si trattava di estendere questo programma negli anni a venire. I due pilastri principali di questa estensione del programma sono stati Bepi Colombo e Gaia. Bepi Colombo è la missione che va a Mercurio, e Gaia è questo nostro telescopio che sta facendo una mappatura incredibile del nostro universo, di tutte le stelle. Quindi il progetto, come nasce in quegli anni lì, si cominciano a fare gli studi di fattibilità, nasce con l'idea di andare a esplorare ovviamente il pianeta Mercurio, che è uno dei più sconosciuti del nostro sistema solare, nonostante sia molto vicino al Sole e pertanto anche alla Terra, è piuttosto sconosciuto e rimane piuttosto misterioso nelle sue caratteristiche, non riusciamo ancora a capire bene, per questo l'Agenzia decide di andare a esplorare questo pianeta. Il progetto nasce anche con l'idea di fare un piccolo rover, un lander che atterra sulla superficie di Mercurio, poi col tempo, con lo sviluppo della missione, del progetto effettivo, si è rivelato essere tecnicamente troppo complesso e non praticamente, diciamo, fattibile anche da un punto di vista finanziario. Quindi la missione si riduce poi soltanto al satellite principale europeo e nasce la collaborazione anche con l'Agenzia Spaziale Giapponese, JAXA, per portare un loro satellite assieme al nostro Mercurio. Quindi questo prende sempre più forma e nei primi anni 2000 prende veramente forma il progetto, ovvero si comincia a pianificare in maniera più concreta non soltanto la missione dal punto di vista traiettoria e degli obiettivi scientifici, ma anche dal punto di vista del satellite, degli strumenti che verranno messi a bordo e poi anche di tutte le strutture necessarie per poi andare a portarla al lancio e farla finalmente volare. Il 2 ottobre 2021 ci sarà il primo sorvolo ravvicinato di Mercurio. Cosa vi aspettate e cosa significa per il centro di controllo ESA-ESOC questo prossimo rendezvous con Mercurio? Stiamo per arrivare al primo sorvolo di Mercurio con la sonda Bepi-Colombo, avverrà in ottobre del 2021 di quest'anno e ovviamente abbiamo molte aspettative da questo sorvolo. La prima è il fatto che arriviamo per la prima volta a Mercurio, quindi sottoporremo il nostro satellite, la nostra sonda, a quello che sarà l'ambiente operativo che dovrà incontrare fra qualche anno quando ci fermeremo effettivamente a Mercurio. Andiamo molto vicino al sole, troveremo un ambiente in particolare termico ed energetico completamente diverso rispetto a quello che abbiamo osservato fino ad ora. Pertanto è la prima possibilità che abbiamo di verificare il funzionamento della sonda in quello che sarà la sua casa per qualche anno, una volta a Mercurio, per la prima volta senza i nostri modelli, ma veramente con l'ambiente vero e proprio in cui si troverà ad operare. Quindi questa è la prima parte interessante. Ovviamente la parte fondamentale di questo sorvolo di Mercurio è il controllo della traiettoria. Noi cosa andiamo a fare con questi sorvoli dei pianeti? Andiamo a controllare, a modificare la traiettoria della sonda in modo di arrivare nell'orbita che vogliamo ottenere per la missione scientifica. Nel caso particolare di Mercurio, di Bepi Colombo, è il fatto che vogliamo cadere verso il Sole perché noi siamo partiti dall'orbita della Terra e praticamente abbiamo dovuto rallentare la sonda per farla pian piano cadere verso il Sole proprio per andare in prossimità di Mercurio. Quindi con tutti questi passaggi cerchiamo di intrappolare la sonda, Bepi Colombo, sempre più all'interno del sistema solare in modo da portarci su un'orbita simile a quella di Mercurio intorno al Sole. Una volta che siamo lì, con tutti questi passaggi intorno a Mercurio ravvicinati, porteremo il livello energetico dell'orbita di Bepi Colombo simile a quello di Mercurio e potremo finalmente fare la frenata finale che ci porterà veramente in orbita intorno a Mercurio nel 2025. Il sorvolo ovviamente è anche un'occasione per alcuni degli strumenti scientifici di Bepi Colombo per fare delle prime osservazioni. Purtroppo saranno limitate perché Bepi Colombo è composto da tre moduli assemblati più uno scudo termico che lo protegge durante il suo viaggio verso Mercurio. Pertanto le possibilità di osservazione saranno limitate. Però a bordo abbiamo alcuni strumenti che sono in grado di osservare ed in particolare abbiamo delle piccole macchine fotografiche tipo delle webcam che ci permettono di fare delle fotografie del corpo del satellite, delle sue appendici come le antenne e pannelle solari che si muovono e speriamo di poter catturare anche sullo sfondo il pianeta Mercurio. Lei è stato definito il pilota di Bepi Colombo. Può spiegarci brevemente cosa significa pilotare una sonda in un viaggio interplanetario? Pilotare una sonda interplanetaria implica un numero notevole di attività da fare e ovviamente non c'è un pilota unico. Mi fa piacere essere definito così, mi fa piacere far parte del team di pilotaggio però ovviamente non è fatto da una persona sola. Innanzitutto con queste missioni parliamo di missioni che vanno in un ambiente sconosciuto. Ovviamente noi calcoliamo la traiettoria, calcoliamo tutti i parametri che ci aspettiamo di dover affrontare durante un viaggio del genere. Però ovviamente non l'abbiamo mai fatto, nessuno l'ha mai fatto o è stato fatto in parte. Quindi le informazioni sono tutte basate su modelli che poi dobbiamo andare a verificare nel tempo. Cosa consiste il nostro lavoro? Innanzitutto dobbiamo capire con quale mezzo abbiamo a che fare, imparare molto bene come funziona il satellite, imparare quali sono gli obiettivi della missione, veramente apprenderli e mettere queste due cose insieme per ottenere i risultati voluti. Diciamo che nel caso di Bepi Colombo, ora durante la fase di crociera, mentre ci avviciniamo a Mercurio, direi che l'aspetto principale è quello che noi chiamiamo navigazione, ovvero controllare la traiettoria ed essere in grado di raggiungere i vari elementi della traiettoria, i vari step della traiettoria, per poi arrivare a Mercurio nelle condizioni ideali per fermarci. Quindi questo è l'aspetto predominante durante questa fase. Però ovviamente per fare tutto questo occorre pianificare, fondamentalmente si tratta di pianificare tutti gli eventi che avverranno nel corso della missione. Quindi i nostri ingegneri cosa fanno? Prendono i modelli che abbiamo fatto della missione, come abbiamo calcolato le traiettorie, tutte le varie attività da fare, li mettono in quello che noi chiamiamo una timeline, una sequenza di eventi e cominciano a guardare come possiamo effettivamente mettere in pratica una cosa del genere. A me piace moltissimo andare in montagna, io paragono sempre tante volte questo aspetto del nostro lavoro come quando si sono scalati, non so, i colossi himalaiani nel prime volte. Ovviamente si trattava di andare in Asia, in Himalaya, e i primi scalatori hanno guardato delle fotografie ma non sapevano esattamente cosa si sarebbero trovati di fronte. Quindi si sono dovuti preparare a molte incognite, hanno dovuto fare tentativi. Si tratta anche di un problema logistico, di organizzare, di avere tutte le risorse a disposizione che serviranno poi per fare il lavoro che va fatto. E come dico sempre quando faccio questo paragone, secondo me non è soltanto essere in grado di arrivare, di fare queste attività, ma anche di ritornare al campo base sani e salvi. Pertanto per me vuol dire arrivare a fare tutti questi step, queste attività della missione, ma farle non solo ottenendo gli obiettivi che ci siamo prefissati, ma garantendo anche la sicurezza del satellite stesso per poter fare poi tutti gli step successivi. E questo è fondamentale nel nostro lavoro. Senza questi elementi di pianificazione, di continuo rivedere tutti questi piani che abbiamo fatto ed essere pronti a qualsiasi evenienza, non saremmo in grado di far volare una missione del genere. E qui subentra l'ultimo elemento che è l'allenamento. Come ci si allena per andare in montagna, anche noi dobbiamo fare tanto, tanto allenamento, essere in grado di reagire a situazioni impreviste, essere in grado di coordinare tutti i team, tutte le squadre che sono al lavoro, che queste squadre siano in grado di capire il lavoro di ciascuno in modo da essere in grado poi di reagire prontamente a tutto quello che può succedere durante una missione del genere. Potrebbe introdurre a grandi linee quali sono gli strumenti degli orbiter MPO e MMO e i loro compiti? Prima di guardare quali sono gli strumenti effettivi che sono a bordo della sonda, vale la pena ricordare quali sono gli obiettivi o tra gli obiettivi scientifici principali di questa sonda. Innanzitutto Mercurio, il pianeta stesso. Mercurio è molto vicino al Sole, risente moltissimo ovviamente della gravità del Sole e della enorme massa solare, quindi manifesta gli effetti della relatività in maniera più prominente rispetto ad altri pianeti. Quindi alcuni degli nostri strumenti andranno a verificare come l'orbita di Mercurio risponde e segue le leggi della relatività. Poi gli scienziati si sono anche resi conto che questo pianeta, come lo osservano, non è esattamente come si aspetterebbero di un pianeta nato e cresciuto così vicino al Sole, a queste temperature. Quindi hanno il sospetto che sia un pianeta formato in altre regioni del Sistema Solare, distanze diverse del Sistema Solare e vogliono capire meglio come effettivamente si sia originato e se effettivamente è originato in altri luoghi del Sistema Solare, quindi magari è stata un'espulsione, una frammentazione di uno degli altri pianeti dovuti a una collisione, diciamo, orbitale. Quindi queste sono tra le domande principali. Mercurio poi ha un campo magnetico. Questo in teoria non dovrebbe sorprendere, però gli scienziati dicono che è un pianeta molto piccolo, molto più piccolo della Terra, diciamo delle dimensioni della Luna. Per quelle dimensioni loro si aspettano che sia completamente solidificato il suo nucleo, ma questo è incompatibile con la presenza di un campo magnetico, perché se guardiamo la Terra il campo magnetico è formato dal suo nucleo ferroso che è in movimento, perché è liquido. Se Mercurio ha un campo magnetico probabilmente ha un interno simile a quello della Terra, però non corrisponde alle osservazioni, alle teorie di formazione che gli scienziati hanno elaborato. Quindi dobbiamo cercare di vedere se effettivamente c'è un interno liquido del pianeta. Queste sono tra le domande principali che gli scienziati sono posti, anche hanno osservato con la missione precedente, Messenger, che ci sono delle aree dove probabilmente c'è acqua, c'è acqua ghiacciata su Mercurio, che uno non si aspetterebbe mai ovviamente di trovare a quelle temperature, però ci sono zone d'ombra, quindi se ci fosse acqua bisognerebbe cercare di capire da dove viene quest'acqua. Ecco, queste sono le domande che i nostri scienziati si pongono. E come facciamo a dare risposte a queste domande? Ovviamente con i nostri strumenti scientifici. Quindi a bordo della sonda dell'Agenzia Spaziale Europea, il Planetary Orbiter, abbiamo strumenti che sono in grado di osservare il pianeta stesso, quindi abbiamo un altimetro laser, abbiamo degli accelerometri estremamente sofisticati, prodotti in Italia. Abbiamo anche una strumentazione di radiocomunicazione molto sofisticata, anche prodotta in Italia, il cui scienziato, diciamo, principale è italiano, che sarà in grado di osservare il pianeta, come il pianeta si deforma e anche come evolve la sua traiettoria, proprio per dare risposta ad alcuni dei quesiti. Poi abbiamo un set di strumentazione di, chiamiamo, di remote sensing. Possiamo immaginarlo come delle macchine fotografiche, però queste macchine fotografiche non vedono soltanto il visibile, le cose che noi normalmente vediamo con i nostri occhi, ma possiamo immaginarle come, non so, una macchina RAGX che ci permette di vedere all'interno dei corpi. Ecco, alcuni dei nostri strumenti sono in grado di fare cose del genere. Oppure abbiamo visto magari delle mappe infrarossi che ci danno delle mappe di temperatura. La stessa cosa, alcuni dei nostri strumenti sono in grado di farla. Con queste informazioni, gli scienziati sono in grado di capire come è fatta la struttura del pianeta, la sua composizione chimica e mineralogica e quindi sono in grado di elaborare teorie, di confermare o di confutare teorie sulla sua formazione. Poi c'è l'ambiente intorno al Mercurio, quindi parlavamo di campo magnetico, ovviamente abbiamo a bordo un magnetometro e qui andiamo a collegarci con la strumentazione che porta il satellite giapponese che vola verso Mercurio con Bepi Colombo. Questo satellite giapponese volerà su un'orbita diversa da quella di Bepi Colombo, Bepi Colombo sarà su un'orbita più bassa, mentre quello giapponese si occuperà più che altro di caratterizzare l'ambiente intorno a Mercurio, quindi il suo campo magnetico, come questo interagisce e con il vento solare e ci sarà una complementarietà con le osservazioni fatte da Bepi Colombo. Bepi Colombo è online e ha anche un'home page. Quali dati vengono pubblicati? Come tutte le missioni ESA, ovviamente anche Bepi Colombo ha la sua home page, la sua pagina internet, dove ci si può rivolgere per prendere informazioni sulla missione, sul suo svolgimento, sui suoi obiettivi scientifici e col tempo anche con i risultati scientifici. Su questa pagina si possono trovare, innanzitutto si trova una bellissima animazione della traiettoria di Bepi Colombo, quindi si può vedere in qualsiasi momento dove si trova Bepi Colombo e andare a guardare dove è stato nel tempo passato e dove sarà nel futuro. Quindi questa è sicuramente un'informazione molto utile, anche per capire come funziona questo cambiamento della traiettoria, questo cadere verso il Sole e arrivare verso Mercurio, dove vogliamo arrivare. Poi si possono trovare molte informazioni a link esterni che parlano della missione, dei vari strumenti che ci sono a bordo della missione. Ci sono anche articoli scientifici pubblicati già nel passato con collegamenti a Mercurio e in parte collegati alla missione. Nel futuro, ovviamente, quando gli strumenti scientifici cominceranno a produrre i loro dati, ovviamente dopo un periodo di processamento da parte degli scienziati, dove dovranno assicurarsi di averli calibrati, e per essere pronti, per essere pubblici, questi risultati scientifici saranno disponibili su questa pagina internet. Quindi tutti gli scienziati nel mondo potranno avere accesso a queste informazioni per studiare e elaborare le loro teorie su Mercurio. Ed infine, forse la cosa più interessante per noi del pubblico generale, dove anche pubblichiamo tutte le fotografie fatte dalle macchine fotografiche di Bepi Colombo. Quindi su questo sito, poche ore dopo aver fatto le fotografie, si possono già trovare. Normalmente avviene circa mezz'ora dopo aver scaricato le fotografie, sono già disponibili sul sito. Quindi quando avremo questi passaggi ravvicinati con Mercurio, se e quando si faranno le fotografie, saranno anche disponibili su questa pagina. di Bepi Colombo. di Bepi Colombo. Grazie.